Per conto del Santa Chiara Lab, il Dipartimento di Scienze Sociali, Politica e Cognitiva dell'Università di Siena ha condotto un'indagine tra il 9 e il 14 di maggio di quest'anno sugli stili alimentari e le scelte relative al cibo dei giovani italiani tra i 16 e i 35 anni. Emergono fondamentalmente quattro risultati. Il primo è che non c'è una via italiana al cibo. I giovani italiani si dividono in gruppi diversi, ci sono quelli più attenti agli aspetti ecologici, agli aspetti della qualità del prodotto e coloro che invece pensano soprattutto alla velocità di consumo e di acquisto oppure al prezzo. Il secondo risultato della nostra indagine è che le principali fonti di informazione sulle quali i giovani riprovano maggior fiducia quando si viene ai temi alimentari sono la famiglia e i medici di famiglia. televisione, social media, internet e giornali sono di gran lunga in posti inferiori in termini di fiducia circa le informazioni fornite da queste fonti. Il terzo dato interessante è che i giovani italiani conoscono poco la politica agricola comunitaria che è uno dei bastioni dell'Unione Europea. Ovviamente i più istruiti la conoscono meglio dei meno istruiti, ma la maggioranza degli italiani non ne sanno molto. E quando ne sanno qualcosa quello che vorrebbero è aiutarli a trovare tramite la politica agricola più facilmente il lavoro. Il quarto e ultimo risultato ha a che fare con gli atteggiamenti cospiratori. I giovani italiani ritengono che l'industria alimentare e quella farmaceutica siano tutto sommato in combutta contro il consumatore. Non tengono conto degli impatti sulla salute di quello che producono e di conseguenza non c'è grande fiducia nelle produzioni industriali. Si può modificare tutto ciò? L'indagine ahimè mostra che fornire informazioni scientifiche ai giovani italiani contrapponendole a quelle non scientifiche non necessariamente aiuta costoro a farsi un'idea più chiara di che cosa fare. Grazie. Grazie.